Nomi in codice Mariolo, così appariva anagrammato sull'agenda di un imprenditore il numero di telefono di Alfonso Papa, deputato PDL, membro della Commissione Giustizia, uomo chiave della cosiddetta loggia P4, finita nel mirino della procura di Napoli insieme all'ex apprendista della P2 Luigi Bisignani, un carabinieri e un poliziotto che raccoglievano informazioni riservate sull'inchiesta contro i colletti bianchi. Per Bisignani le notizie coperte dal segreto sarebbero valsa a informare il numero 2 di Palazzo Chigi, Gianni Letta, e uno dei coordinatori del PDL, Denis Verdini. Il procuratore generale presso la Cassazione, Vitaliano Esposito, conferma l'apertura di una pratica di accertamenti sul magistrato Alfonso Papa, mentre la giunta per le autorizzazioni a procedere dovrà decidere sulla richiesta di arresti di Papa nella qualità di parlamentare. Esponente della corrente di Unicost nell'ANM, Alfonso Papa, prima di approdare in Parlamento, alterna cariche sindacali a incarichi ministeriali. Destra e sinistra lo apprezzano in modo bipartisan. Vice capo di gabinetto del ministro Castelli, Lega, nel governo... Vedrete sossegnato ricchi o segnalato poveri. Sossegnato povera gente a un socio che aveva di... che giustificherebbe in qualche modo l'alto tenore di vita. Le inchieste rivelano la passione per auto, Ferrari e Jaguar, donne tutte belle e giovani, orologi Rolex, tutti costosi, ma spesso privi di certificati di acquisto. Questa trascita dell'inchiesta andrebbe ribattezzata delle 4P. Numerose infatti le protette di Alfonso Papa. C'è Maria Roberta, gratificata con una Jaguar come regalo di compleanno, assunta all'ufficio legale di poste italiane grazie a un curriculum dove appare solo la laurea. Maria Elena, ex assistente parlamentare di Alfonso Papa, parla della anomala disponibilità di abitazioni al centro e in periferia nella capitale. Non so chi e come pagasse tutte quelle case. Alloggiata, il magistrato sindacalista politico vive con Ludmilla, assunta ai neni grazie all'interessamento dei bisignani. Quando i giudici le chiedono dei loro soggiorni alloggiata, Ludmilla si adombra a non solo case ed elenca i migliori e più costosi alberghi di Roma, Ischia e Milano. Entra a scena Gianna, intrigata da ambienti transessuali convertite da Alfonso Papa, riceve uno stipendiuccio di 700 euro a regali, la solita Jaguar e il tesserino di servizio emesso dalla Camera dei Deputati. Insorgono i colleghi di Alfonso Papa. I fatti che emergono dall'inchiesta di Napoli nei confronti del magistrato inaspettativo per mandato parlamentare Alfonso Papa appaiono oggettivamente gravi e inquietanti. Per questo l'Associazione Nazionale Magistrati chiederà al Collegio dei Probi Viri di valutare con urgenza la compatibilità di alcuni comportamenti con l'appartenenza alla NM.